Quart'ultima giornata di campionato di Serie D, Girone F con un solo derby abruzzese, quello dello stadio Aragona, Travassese e Francavilla. Gli aragonesi, dopo il blitz di Castelfidardo, sembrano aver ripreso quell'abbrivio in grado di portare all'interno della griglia spareggi promozione. Colavitto spera di avere a disposizione il regista Pizzutelli, uscito malconcio domenica scorsa, ed uno degli insostituibili del tecnico campano che in caso di forfè prepara l'alternativa a Lucciarini. Per il resto difesa con Amelio e Iarocci, Cerniera centrale, mentre davanti il ballottaggio è tra Chirillo, Tedesco e Bittaglie per affiancare Leonetti e Fiore, i due che hanno firmato la rimonta, Vincente e Almancini. Abbiamo enorme rispetto per il Francavilla, comunque i ragazzi stanno lavorando bene, le vittorie aiutano ad allenarsi bene, ad acquistare sempre stima, e si scende sempre in campo convinti di ciò che si fa in allenamento. Detto questo ce la giochiamo domenica, giochiamo davanti al nostro pubblico, ci teniamo comunque a regalare una gioia ai tifosi pastesi. Sul fronte Francavilla invece i problemi sono soprattutto davanti, dove mancheranno Fofanà, stavolta per infortunio, Alexic, Giallorossi, anch'essi reduci dal successo interno con la Jesina, grazie alla punizione di Palumbo, e a cui si affida Iervese per cercare di riaprire un discorso play-off che a 360 minuti dal termine della stagione regolare sembra davvero un'impresa a poterci entrare. Gara affidata di Lari e Bianchini della sezione interna, imprevisto tanto pubblico sugli spalti, complice anche lo storico gemellaggio tra le due tifoserie. Detto dell'unico derby, nella parte alta della classifica l'Avezzano terzo prova a tenersi stretta quella posizione ospitando al Dei Marsi la re canatese Leopardiani, che dopo la rincorsa per tenarsi fuori dalla zona calda sembrano aver mollato un po', come dimostrano le quattro sberle a domicilio prese dal San Marino non più tardi di una settimana fa. In casa bianco-verde mancherà per squalifica il portiere Federico Fanti, dopo il rosso rimediato dalla panchina nella gara con il San Nicolò di domenica scorsa. Due invece gli assenti in casa giallorossa, Lunardini e Olivieri. Giampaolo non avrà ancora sbardella in difesa, out anche Bisegna, ma avrà a disposizione Tariuk, recuperato a tempo di record dopo lo scontro di gioco pauroso di Pineto. Una partita molto difficile, una partita dove l'area canatese viene da una sconfitta pesante in casa con il San Marino, per cui è una partita da tenere altissima la concentrazione. Io penso che adesso, mancando quattro partite alla fine, bisogna alzare l'asticella su tutti i punti di vista. Domenica abbiamo questa opportunità di giocare in casa. Sono sicuro che ci sarà anche il supporto del nostro pubblico e noi dobbiamo fare una grande prestazione per cercare di portare a casa il risultato. Scontro in salsa play-off a San Marino, dove l'Aquila, grazie al supporto anche economico della propria tifoseria, andrà a giocarsi le speranze di sorpasso sui rivali. San Marino senza il portiere Fall, squalificato, così come sul fronte rosso-blu e appiedato per un turno Steri. Parallelamente però, l'amministrazione comunale lavora per dare un futuro alla società aquilana. Due le piste battute dall'assessore Piccinini, ma nel frattempo la squadra di Battistini ha una chance unica di potersi confermare all'interno di quelle che proveranno a giocarsi tutto nella fase 2. Il Pineto senza esposito riceverà il Mariani Pavone e il Castelfilardo, che ormai sembra tagliato fuori da ogni discorso play-off. Pinetes invece che seguiranno con particolare attenzione quello che accadrà proprio tra San Marino e l'Aquila, visto che l'undici di Daniele Amaolo è dietro la coppia di un solo punto. Marchigiani senza bordi e che avranno motivazioni in meno rispetto al Pineto che nella settimana passata ha messo insieme nove punti, compreso il recupero col Fabriano. Trasferta a Monte San Giusto per il San Nicolò, che tuttavia lontano da casa, almeno nel girone di ritorno, sta andando molto meglio. Se lo augura Fabio Montani dopo la beffa subita domenica scorsa contro l'Avezzano. Infine la sfida tra Monticelli e Nerostellati, con i Pratolari che dopo il sussulto nelle gare con San Marino e Pineto ha perso lo slancio. Solo la matematica tiene ancora in vita la squadra di Aldo di Corcia, che sembra destinata a lasciare la quarta serie dopo solamente un anno.